Un workshop organizzato dall'ARPAV in provincia Padova dedicato all'approfondimento su tematiche ambientali, al profondo cambiamento legislativo ed operativo che sta interessando la produzione e l'utilizzo del combustibile da rifiuti. Obiettivo del convegno è condividere nel sistema agenziale le esperienze che svolgono un ruolo attivo in questo processo di cambiamento, evidenziando le cricità emerse in questi primi mesi di applicazione nel nuovo assetto normativo. Oggi siamo qui a ragionare su una delle ultime novità nel settore ambientale, i combustibili solidi secondari, che sono un'evoluzione del vecchio CDR cosiddetto, che era il combustibile derivato dai rifiuti. È una novità importante perché consente di ragionare tra coloro che producono i rifiuti e il mercato dell'utilizzo, che va ovviamente dagli inceneritori fino ai cementifici e alle altre centrali e consente finalmente di avere anche un po' di chiarezza con le agenzie di controllo rispetto a questa norma, che è una norma molto importante ma anche nuova. Cosa ne deriva per la salute dei cittadini? Ovviamente la salute dei cittadini è prioritaria rispetto ad una gestione dei rifiuti. Credo che questo è un ulteriore tassello che contribuisce a rendere la gestione dei rifiuti ovviamente sicura per l'ambiente e sicura per i cittadini. L'evento è rivolto principalmente ai tecnici del nostro paese per supportare, attraverso il confronto e la condivisione, l'importante processo di cambiamento in atto. Questa nuova distribuzione di rifiuto può essere un volano per un settore come cementifici? È un'innovazione, è un prodotto nuovo, è una nuova opportunità e a nuove opportunità arrivano anche nuovi controlli. Nel controllare che questo ex rifiuto che diventa combustibile abbia il giusto percorso senza dare danno alla collettività. Col vecchio nome, fino all'anno scorso, con la normativa precedente, si chiamava CDR, combustibile da rifiuto, in Veneto, se non ricordo male, erano attorno prodotte circa 152.000 tonnellate. Quindi è un valore importante, è il rifiuto che non va più in discarica, che viene lavorato, viene raffinato, diventa un combustibile e quindi ha una seconda vita, produce energia e non va a inquinare, non va a riempire le nostre discariche.